La sveglia La sveglia Sono le tagliatelle di mannappina Un pieno di energia, effetto vitamina Mangiate calde con la bu, con la bu Ti fanno il piano, verso i guardi ed anche più Perché le tagliatelle di mannappina Sono molto più efficace, più anni medicina Sono le tagliatelle di mannappina Sono le tagliatelle di mannappina Sono le tagliatelle di mannappina E la fauce di mannappina Grazie a tutti